Ok, rap notizia sportiva che fa 4 anni fa la falsa partenza, ma a Pechino la corretta sentenza. Bolt, fulmine nei cieli limpidi, non godeva neanche del favore dei pronostici. Scrivo tifando per questo guascone, che se c'ha la testa ha sempre ragione. Bene così freestyle, per te rap dedica. Adesso un applauso al re dell'atletica. Yes!